Ci stiamo avvicinando ormai, mancano pochi giorni all'inizio della stagione 2023 di World Paddle Tour e Premier Paddle. Sarà l'ultima con questa modalità promiscua dove i due circuiti si daranno a battaglia in campo e negli uffici. Ci sono già stati segni di dialogo e ovviamente l'impressione è che World Paddle Tour dovrà farlo se vuole continuare a desistere perché il futuro pare essere tutto in mano a FIP e a Premier Paddle. Detto questo noi ci godiamo questa stagione ricca di tornei analizzando le coppie maschili che si presenteranno ai blocchi di partenza di questa stagione. La regola è non più di un minuto per coppia, vabbè qualche secondo possiamo sgarrare, breve analisi, qualche idea e best and worst case scenario. Siete pronti? E allora iscrivetevi al canale, mi raccomando e attivate la campanella perché finché non lo farete non partirà il video. Fatto? Bravi, ora possiamo partire. Juan Lebron e Alejandro Galan, la coppia numero uno del mondo e tale da tre anni, non sembra voler rallentare. Hanno vissuto qualche momento difficile nel 2022 ma sono considerati tali solo perché ci hanno abituato davvero troppo bene. Alto livello nella prima parte e cannibalismo puro nella seconda. Considerando la qualità della coppia, l'età e la fame che hanno costantemente di vincere, sembra difficile poterli vedere sotto il primo posto anche nella prossima stagione, anche alla luce delle tante coppie nuove e che quindi dovranno formarsi con un periodo di rodaggio. Hanno dominato l'anno scorso, hanno trovato Pachito e Di Nenno l'anno prima a combatterli, ma quest'anno sono i favoriti senza ombra di dubbio. Non vederli al top sarebbe una sorpresa. Best case numero uno e tutti a casa contenti. Worst case, che lo sfogo di Ale Galan, sempre molto tranquillo di norma, possa ripetersi o non essere un caso isolato. Se falliranno, non glielo auguriamo, sarà probabilmente per il logoramento del loro rapporto. Agustin Tappi e Arturo Coelho. Pochi dubbi che la coppia con più hype sia quella formata dalle due stelle giovani più emergenti del panorama. Cosa gli manca? Se ci dimentichiamo al campo probabilmente nulla. Un talento pazzesco a sinistra con una tecnica seconda a nessuno e un bombardiere mancino a destra in rampa di lancio in grado di cose incredibili l'anno scorso al fianco di Fernando Berasteghi. Quindi, che cosa manca? Apparentemente niente appunto, però, c'è un però, i punti di domanda sono sulla continuità mentale di Focus, soprattutto per Agustin Tappi, che ha dimostrato ancora qualche momento di vuoto, e la necessaria presa di responsabilità della coppia e delle aspettative che attende Arturo Coelho, a mio modo di vedere, leader designato della coppia. C'è ben più di un dubbio su quanto consistenti potranno essere in una stagione e quanta pazienza avranno nell'aspettarsi come coppia permettendosi di sbagliare, cadere e crescere. Best case, lotta fino all'ultimo per il numero uno. Worst case, separazione per matura per fretta di risultato. Martin Di Nenno, Franco Stupacuc. Gettiamo la maschera. Se non fate il tifo per loro quest'anno, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Scherzi a parte. Il ritorno dei Super Pibes è il progetto più suggestivo, probabilmente interessante tecnicamente e valido di questa off-season. Tutti sappiamo i loro trascorsi giovani d'insieme, l'incidente di Martin, le strade che si separano per poi riunirsi ed essere pronti per una storia a lieto figlio. Il talento cede a entrambe le parti. Di Nenno è chiamato a riscattarsi dalla brutta stagione con Pachito, che personalmente ritengo più responsabilità del compagno che sua. Lo vedo sempre più migliorato rispetto anche all'anno da numero due del mondo, ed è un giocatore di destra pazzesco. Stupa con Lima ha raccolto forse più di quello che ci si aspettasse, e sembra in una forma fisica notevole, come ci ha detto proprio Martin nell'intervista che ho fatto e che vi lascio nelle schede. Sembra una coppia perfettamente assortita, al netto del loro rapporto personale, che comunque ovviamente è splendido. Best case, lotta per i primi due posti del ranking. Worst case, adattamento lento e l'impressione di tradire le aspettative del compagno. Pachito Navarro e Juan Teio, dateci tempo per allenarci. Questo era il mantra sul finire della scorsa stagione per Navarro e Teio. Lo spostamento di Pachito a destra è un cambiamento duro da metabolizzare e avere una personalità così al fianco è da gestire per un Teio sempre alla ricerca di consistenza e continuità ad altissimi livelli. Le domande sono tante, i dubbi qualcuno, ma anche le potenzialità molto alte. Mi sembra la coppia che più di ogni altra non abbia mezze misure. Potrebbe andare benissimo e diventare l'antagonista di Galan e Lebron o davvero naufragare dopo due mesi di stagione. Si sa che Pachito non è esattamente uno paziente e se dovesse capire di non essere pronto per stare a destra o di non avere un degno compagno a sinistra, i mal di pancia potrebbero aumentare. Penso davvero che nulla sia precluso per loro, in alto e in basso. Best case, cliccano, Pachito rende a destra, Teio sale di livello, zero limiti per loro. Worst case, non funzionano e ad aprire si separano. Fernando Belasteghin, Sanio Gutierrez. Come sarà la versione 2.0? Sono curioso anche se è un po' scettico. Prima che lasciassero i rispettivi compagni, Sanio e Bella avevano fatto anche più che bene, ma ora con entrambi un paio d'anni in più sulle spalle, come sarà? Di certo carisma, esperienze e qualità non mancheranno. Bella viene da una stagione al limite della follia per qualità rapportata all'età anagrafica. Ma saprà ripetersi? Soprattutto la coppia saprà essere incisiva nel padel 2023 senza un vero bombardiere? Fatte tutte queste valutazioni, lasciare fuori questi due vecchi volponi è difficile e sicuramente in diversi tornei ce li troveremo lì in fondo a dare fastidio a tutti. La loro tenuta fisica sul lungo periodo probabilmente sarà la chiave che ci dirà dove potranno arrivare. Best case, top 3, 4 coppie. Worst case, prendono coscienza che gli manca spinta e in corsa trovano rispettivamente un compagno migliore. Cochigneto e Pablo Lima. Quando si dice sensible padel si pensa a questa coppia. Cochia ha dimostrato anche con Di Neno di poter essere competitivo pur non essendo un attaccante puro a sinistra. Però la necessità è di essere sempre atleticamente al top per competere. Dall'altra parte Lima è un lavoratore del punto per eccellenza e l'impressione rimane che questa coppia non sarà esattamente la più spettacolare da vedere giocare e dovrà allungare tantissimi punti per poter competere ad altissimi livelli. Sinceramente è una coppia che mi lascia più perplesso che persuaso perché è poco adatta alla deriva del padel attuale. Vedremo se sapranno riciclarsi o se il loro lavoro sporco avrà talmente tanta continuità da sfinire tutti gli avversari che incontreranno anche perché va tenuto in considerazione che per suo stesso comunicato Pablo Lima è all'ultima stagione in carriera quindi ci sarà un pochino quell'extra motivazione. Best case, set settima coppia del mondo. Worst case, il padel loro è incompatibile con quello di oggi e separazione prematura. Abigarrido e Fede Cingotto Questa è una coppia che sinceramente mi intriga molto. Cingotto rimane sempre uno dei, se non il, miglior giocatore di destra difensivo del circuito ma ha anche dimostrato di non essere malaccio a sinistra e non so se l'avete visto nel Master Final Condinendo. Ovviamente è stata una particolarità del momento ma rimane un top player di destra, su questo non ci sono dubbi che sta imparando anche ad essere un pochino più incisivo ma ovviamente ha bisogno di un martello a sinistra cosa che sicuramente Garrido è. È probabile che arriveranno dove li porterà la consistenza offensiva di Garrido atleta spaziale, cuoco di grande livello vabbè ma questo non c'entra nel gioco era solo una cosa così per voi e ago della bilancia per la coppia. Se da Cingotto sai cosa aspettarti ogni giorno Garrido è più soggetto ad alti e bassi. I potenziali c'è forse anche qui servirà un po' di pazienza ma se arriveranno daranno fastidio a tanti. Best case top 4, 5, 6 worst case 9, 10 del mondo anche se li vedo comunque finire da stagione insieme. Alex Arroyo e Mike Youngwas Dei motivi di questa coppia ne abbiamo parlato proprio con Mike Youngwas direttamente. Quando è nato il progetto con Arroyo e che prospettiva avete? Io credo che è nato questo anno e ha amato Arroyo perché è un giocatore con un potenziale incredibile è una bestia e soprattutto non teme a niente e vuole ganarle a tutti quindi io credo che ho deciso di un compagnolo così con questo carattere e la verità è molto contento. La deriva del giocatore di destra come ha detto Mike è sempre più attaccante e meno difensore canonico. Dalle broni in poi questa è un po' la ricerca di tanti giocatori e tante coppie. Se ne facciamo una questione di hype questa coppia devo dire mi gasa molto talento, gioventù, cattiveria e anche un ceiling di un certo livello. Certo ci sono dei ma e probabilmente la giovanità è una delle più importanti. Youngwas ha chiamato a un salto di qualità per confermare sul campo di essere una delle stelle emergenti del padre e se davvero salirà di livello in questi anni avremo un prototipo di giocatore alla coeglio però destro a destra. Arroyo è un altro grande talento pronto a esplodere e che non ha certo paura di competere. Vederli giocare sarà sicuramente divertente da qui ad avere dei risultati continui forse un po' presto ma vedremo. Best case top 6-7 del mondo worst case fuori dai primi dieci. Agustin Gutiérrez e Lucio Capra Sono sincero, vedendolo giocare dal vivo credo che Lucio Capra sia uno dei giocatori più talentuosi del circuito e potrebbe davvero fare grandissime cose ma è anche uno dei più incostanti e falloso quando entra nel loop negativo. È il più classico degli amori sbagliati quel what if che un giorno pensi sia al top e quello dopo non ti capaciti degli errori che fa. La coppia con Gutiérrez è decisamente intrigante dal punto di vista dello spettacolo. Anche in questo caso a talento siamo messi piuttosto bene ma quanta sostanza sapranno dare al loro gioco? Quanta continuità? Il nipote di Sagno sta salendo di livello e ha avuto qualche sussulto importante anche nella scorsa stagione e questo potrebbe essere un trampolino perché nei tornei di Buona di Capra si potrebbe davvero pensare in grande per davvero. Best case bottom 10 worst case fuori dai primi 15. Maxi Sanchez e Lucas Campagnolo L'esagitazione continua di Campa non è che mi entusiasmi mi sembra risulti in modo spesso esagerato e sproporzionato al peso dei punti. Però la separazione da Garrido è stata vissuta male e in un'intervista a Padel Club sembrava davvero distrutto dopo i fatti. Ora sta cercando stabilità e chi meglio di un mamma santissima del Padel come Maxi può dargliela? Non credo che possano ambire a grandissimi posizionamenti nel ranking stagionale. Magari qualche spluai in qualche torneo a spot ma nulla di più. Credo che Campagnolo potrà giovarsi di quest'anno per provare a migliorare come giocatore e far salire il proprio livello sul singolo torneo ma soprattutto sull'intera competizione annuale. Maxi sarà il solito Maxi quasi sicuramente il che può essere i bene ma ha anche un limite. Best case top 10 worst case separazione prematura. Questo è lo scenario delle coppie di questa stagione e secondo voi quale sarà la sorpresa o il clamoroso fallimento della stagione? Fatemelo sapere nei commenti e apriamo la discussione più selvaggia di quest'off season. Grazie per aver visto il video fino in fondo io vi do come sempre appuntamento sempre qui per un prossimo video sul mio canale YouTube. Grazie per aver guardato il video